carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi oggi è il 5 marzo e leggiamo con l'aiuto del signore sempre nel nuovo testamento come ieri ma questa volta nella prima epistola di paolo a timotio al capitolo 1 il verso 5 dove l'apostolo scrive il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro da una buona coscienza e da una fede non finta lo scopo del servizio cristiano probabilmente quello pastorale innanzitutto ma non solo è sempre quello dell'amore e di un amore che ha una sua fonte una sua origine un cuore puro una buona coscienza e una fede non finta e credo che queste tre componenti siano qualcosa sulle quali opportuno che ognuno di noi rifletta ora lo faremo insieme brevemente ma poi vorrei invitare voi e naturalmente anche me a soffermarci su quello che queste parole significano per poterci specchiare personalmente in modo da poter capire se c'è magari qualcosa che deve essere cambiato nel nostro modo di amare amore dunque l'amore ne abbiamo parlato anche ieri ne parliamo spesso è qualcosa che procede da dio il quale ci ha talmente amati da dare i suoni genito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna e questo amore che dio ha mostrato verso di noi ha delle conseguenze nella nostra vita e cioè noi come dice la parola di dio non dobbiamo avere altro debito l'uno con l'altro se non quello di amarci perché chi ama ad impiuto la legge l'amore infatti è qualcosa che procede da parte del signore e quindi giovanni nello scrivere la sua epistola oltre a dire che dio amore afferma carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da dio e chiunque ama è nato da dio e conosce dio mentre chi non ama non ha conosciuto dio e in questo si è manifestato per noi l'amore di dio che dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo e in questo è l'amore non che noi abbiamo amato dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati carissimi conclude giovanni se dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni con gli altri e nessuno ha mai visto dio ma se ci amiamo gli uni gli altri dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi da questo conosciamo che rimaniamo in lui e degli in noi dal fatto che ci ha dato del suo spirito e noi abbiamo ricevuto e testimoniamo che il padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo questo amore quindi che viene da dio che deve dimorare nei credenti che deve caratterizzare i rapporti fraterni ma anche i rapporti con i nostri simili è qualcosa che aggiunge paolo in questa epistola procede da un cuore puro da una buona coscienza e da una fede non finta un cuore puro quindi o meglio oserei dire un cuore purificato perché per natura il cuore di nessuno è puro ma grazie a dio per mezzo dell'opera della grazia si viene ad avere una nuova natura la rigenerazione e si viene ad avere un cuore nuovo un cuore di carne che prende il posto del cuore di pietra e il signore desidera che i nostri cuori possono essere puri purificati nettati liberati da ogni forma di corruzione e da ogni forma di peccato allora il nostro amore sarà un amore vero non sarà un amore interessato ma sarà un amore che assomiglia a quello che dio ha mostrato verso di noi e infatti afferma paolo quest'amore procede non solo da un cuore puro ma anche da una buona coscienza la parola greca che viene tradotto con coscienza vuole dire letteralmente conoscenza ed era usata per indicare la capacità di distinguere tra il bene e il male e il retto operare in questa sfera ebbe una particolare importanza nella teologia di paolo per contrasto infatti viene poi ricordata timoteo al capitolo 4 al verso 2 che gli apostati sono colori quali hanno delle coscienze macchiate e possa il signore far sì che la nostra coscienza sia una coscienza buona non macchiata che il nostro modo di intendere il bene e il male sia guidato illuminato dalla parola di dio e non dalle dalla cultura che governa questo mondo allora potremo amare veramente come cristo ci amati allora potremmo realizzare quello che i nostri padri spirituali hanno realizzato un amore incondizionato verso dio certo ma anche verso il prossimo con un che ha uno solo scopo quello di portare tutti a conoscenza che cristo gesù è morto sulla croce per la salvezza dell'umanità e infine la terza sorgente di questo amore è identificata da parte dell'apostolo paolo in una fede non finta cioè sincera e sì perché ci sono delle fedi finte e ci sono delle fedi sincere ci sono persone che cioè cercano il signore soltanto per apparenza e ci sono persone che invece lo cercano con tutto il loro cuore ci sono persone che hanno la forma della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza ma il vero amore è un amore che sgorga da un cuore che veramente cerchi a dio e la cui fede è veramente poggiata sul signore allora questo amore sarà un amore che si manifesterà che crescerà e che testimonierà dell'opera di rigenerazione che è stata compiuta nella nostra vita accertiamoci cari che l'amore di dio sia reale in ognuno di noi controlliamo che nei nostri cuori ci siano dei sentimenti puri che ci sia una conoscenza rinnovata e che ci sia una fede sincera reale genuina allora prospereremo allora andremo avanti allora la nostra vita sarà una vita sempre più benedetta ma se quest'esame non dovesse essere positivo beh abbiamo la possibilità stamattina di andare ai piedi del signore e dire o dio opera in me secondo il mio bisogno affinché nella mia vita ci possa essere quello che tu chiedi che la grazia la pace l'amore la presenza e la benedizione di dio sia con tutti quanti noi